Posso 19 marzo a San Michele, Alessandria Da l'interno è sempre, festeggiamo anche la festa di papà Qua c'è un profumino, signore e signori, ladies and gentlemen, andrà Ok, stiamo facendo il pesto dei rumi, quindi basilico, maggiorana, finocchietto, lime, arancio, limone, frutta secca Che devo fare la nostra pasta con i gandari Ok, dobbiamo fare, dove si vediamo loro?